perfetto ragazzi e ragazze si può continuare anche su sword art online lo song qui vediamo un pochettino come come si evolve la nostra avventura insomma no vediamo il da farsi allora dove bisogna andare vediamo un po vediamo un po ecco qui sono due punti saranno delle missioni magari anche da fare sì sicuramente quindi facciamo le missioni qui ragazzi e poi quando sarà si andrà insomma a fare quello che a cercare altre isole vediamo un po allora no 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 Sì, è vero? Grazie a tutti! Pina, è davvero divertente! Mi sembrava che stai morto prima. Ah, è vero davvero. Sì, Pina! Sì, andiamo a far più vicino! Sì! 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 Ok, semina 1ino… Sì! Sì! Sì... Sì... Tri... Sì. No... C-Si... Mi sento sempre bene. Sa la prima volta qualcosa di være. Dio devo fare con me questo prov énormément la luna vieni hollow palmiar�ofst ign da iscrivete estos le no Sì, eravamo bene. Sì. E? Sì... Sì, Sì... Che cosa? Sì... 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 Sì. Sì... Sì... Sì, sì. Dov'altro va a seики e cercare la collage. Questa noia ti debaissà. Sì, questo è il puneuma? Come si è il puneuma? Come si è il puneuma? Il puneuma è un puneuma che non è un puneuma di 47. Non ho capito, ma l'ALO è un copione di SAO. Ma l'allocchia è un puneuma che non si può fare. Se ne si può fare, non c'è nessuno che non c'è nessuno di Queso. Però non c'è nessuno di Queso. 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 Ma è un pune di Queso che si può fare. Sì, per fare un pune di Queso, è un pune di Queso. È un pune di Queso che si può fare. Non c'è nessuno di Queso. E' un pune di Queso che si può fare. È un pune di Queso. È un pune di Queso che si può fare. Ma non c'è nessuno di Queso. Ma non c'è nessuno di Queso che si può fare. Se è nessuno di Queso. Ma cosa cosa? Io vorrei fare un'immagine di Kirito. C'è Silica? Ah, è un'implice? Non c'è nulla cosa, non c'è nessuno. Non c'è nessuno qui. Oh? C'è Silica? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vabbè, comunque vediamo un po' qui se c'è una missione da fare. Ecco, qui ci sarà una missione da fare, ragazzi. Quindi ora faremo il tutto. Ci sentiremo appena finiscono qui i discorsi. Tranquilli a tra poco, ragazzi. Perfetto, ragazzi. Voglio solo vedere qui che boss fight mi aspetterà più avanti, però ho poi un altro discorso che lo scopriremo più avanti, insomma, dai. Vediamo un po' il da farsi qui, il da farsi, ragazzi. Eh sì. Ok, ok. Ci stiamo comportando bene, diciamo, in battaglia. Siamo anche molto aggressivi, quindi va benissimo, va benissimo così. Senza troppi problemi, insomma. Speriamo che nella boss fight sia una boss fight decente, non di quelle in volo, perché mi stanno veramente, ecco. Non vi dico neanche dove perché tanto l'avete capito. Cosa facciamo? Cosa facciamo qui? Volete combattere? Volete combattere contro Brado? Non c'è problema. Combattiamo, combattiamo. Su! Perfetto, perfetto, perfetto. Complimenti, ok. Si conclude qui la battaglia. Per il momento, ragazzi. Per il momento. Perfetto, ragazzi. Allora, da che parte bisogna andare? Vabbè. Per cui ora dobbiamo un attimo girare un po' tutto, come si dice, il parametro. Ecco, andiamo un po' qui. Ok, allora. Vediamo un po' se ho qualche arma un po' più aggressiva. Spero. Purtroppo no. Sembrerebbe di no. Vabbè. Si continua così, ragazzi. Allora, si continua così. Vediamo un po' la mappa dove si è messi. Magari andiamo un po' qui. La porta si apre. Attenzione. Attenzione, qui la porta si apre. Di che livello sono? Livello 430, ma comunque Non ci spaventano perché siamo veramente potenziati a un punto veramente abbastanza buono, direi. Dai. Non siamo nella maniera più eccessiva, però siamo in un livello abbastanza competitivo, possiamo dire. Cosa facciamo? Cosa si fa qui? Lo affrontiamo? Vogliamo affrontarlo? Ok, mi colpisce da dietro. Vabbè, comunque. Allora. Allora, vediamo un po'. No. Allora, storia. Cerco un guaritore con la speranza che Ha l'abilità per guarirmi perché altrimenti dovrò vedermela Da me, da solo, insomma, ecco. Perfetto, perfetto. E andiamo così. Andiamo in questo modo. Ok. Cosa facciamo adesso, ragazzi? Cosa facciamo? Non lo so veramente. Allora. Vabbè, dobbiamo ripercorrere un po' tutta la zona, tranquilli. Andiamo anche da quest'altra porta qui. Se si apre, perché... Ok, la porta è chiusa a un meccanismo. Da quale meccanismo, ragazzi? Sinceramente, non saprei comunque. Uuuh, lalà. Il vostro bradone colpisce veramente forte, ragazzi. Ok, io non so se ora lei ha... Il modo per curarmi perché, sinceramente... Sì, ma tu puoi curarmi? Non credo. Non credo a parte. Ragazzi, che bordello. Però vediamo un attimino... Se magari... Ma invece io credo che lei può curarmi, eh. Aumenta. Ok. Cerco un guaritore. Vediamo un po' se mi cura. Non è che mi aiuta molto, però. Nel suo piccolo qualcosa potrebbe tranquillamente fare. Ok, allora vediamo un po'. Sì, sei tranquilla. Andiamo da questa parte, anche se... Ecco qui. A questo punto, credo che... Dobbiamo tornare indietro dove la porta all'era chiusa. Ora si sarà tranquillamente aperta, credo. Però magari sbaglio. Che bordello, ragazzi, questa missione. Che bordello! Ok, perfetto. Andiamo di qua. Torniamo dietro. Vediamo se la porta... In questione era questa qui. Qui dietro. Che purtroppo prima era ancora chiusa. Vediamo se adesso... Vediamo un po'. Eh sì, ragazzi. Infatti ora si è... Sembrerebbe aperta, però. Aperta, però non so a cosa serve, visto che... Vabbè. Ma è qui? Eh sì, ragazzi. È qui, ma non capisco... Aiuto. Non mi aiuta, eh. Non mi aiuta, ragazzi. Ve l'ho detto io. Sì, vabbè. Chirito, chirito. Ma non mi aiuti. Ci sto per rimettere le penne. Eh, vabbè. Me la vedo io, dai. Me la vedo io per me. Non mi curi tanto, quindi... È inutile ora... Vediamo un po' di tornare avanti, va. Vediamo un po' di tornare... Avanti, per vedere se magari... Bisogna andare qui, o meno. Non potevo, ragazzi. Gli sono vissuto scappare per forza. Perché, giustamente, qui... La mia cara... Amica... E... Purtroppo non mi aiuta. E avete visto anche voi che non mi aiutano. Quindi... È un po' di caparsi qui. Vabbè, queste qui sono tremende, comunque. Sono veramente tremende qui, come... Nemici. Ok. Ho attivato la leva qui. Da che parte andiamo, quindi? Andiamo qui. La porta si apre, fortunatamente. Perché... Siamo fortunati di che si apre la porta. Andiamo di qui. Ecco qui. Vediamo un po' cosa succede ora, eh. Ecco qui. E' un po' di capi. 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 Perfetto ragazzi. Qui la battaglia è un po'... Complicata. Complicata qui. E' un po'. E' un po' di capi. E' un po' di capi. Se riusciamo... A uscirne vivi da questa battaglia. Insomma. Perché io qui sinceramente... Mi spaventa un po' la situazione. Visto che... Non mi ripristina di energia qui la mia compagna. Altrimenti sarebbe tutto più facile. Ecco. Però... Purtroppo non mi aiuta e... Ed è qui che la battaglia prenderà una piega un pochettino più complicata. Solo per questo motivo, non per altro. Ok. Magari poi riusciamo anche a distruggere. Sarebbe bello. Sarebbe veramente molto bello, sì. Ecco. Perfetto. Come non detto ragazzi. Come non detto. Ecco. Perfetto. Non l'ho neanche beccato. E non mi aiuta minimamente ragazzi. Non mi aiuta minimamente lei, eh. Devo vedermela io per me. Per conto mio devo vedermela io. Va bene. Va benissimo. Devo curarmi anche da solo. Va bene. Ok. L'abbiamo distrutto qui. Ci sembrerebbe di sì ragazzi. Sembrerebbe di sì. Eh tutto fumo e niente arrosto ma se non mi aiuti. Allora... Questo è tutto. Sì. 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 Tutti tutti. Sì. Sì. Non so. Sì. 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 Ok, sì, possiamo andare Sì, aspetta, aspetta Meglio che mettere un po' di energia qui, visto che ci sarebbe questo, da dove è spuntato fuori No, giusto così per sapere, ragazzi, non per mia curiosità Ok, ok Non mi puoi curare, no E beh, pensa solo per lei stessa e basta, ragazzi, non sei nel porta di Bradone qui Allora, un po', la porta, diciamo, in questione dovrebbe essere questa Dove ci sarà anche la boss fight, secondo me Ci sarà anche una boss fight, perché non è che ne usciamo tranquillamente in questo modo, ecco Sono certo di questo Sì Ok ragazzi, vediamo un po', sì vabbè, cosa ti racconto qui? Livello 480, sì ok, va benissimo, come no? Va veramente benissimo e certamente Cosa ti racconto a questo io? A signor Odino qui, ah non l'ho neanche colpito, ah bene Di questo passo ragazzi si fa una favola eh, come no? Non riesco a colpirlo ma come funziona? Non riesco a colpirlo ragazzi, impressionante Qui la vedo un po' complessa, non per qualcosa ragazzi, ma per il semplice motivo che non mi aiuta la mia consorta, la mia compagna Lino diciamo così no? Contro Odino non mi dà una mano, va bene, va benissimo, me la... Me la caverò per fatti miei, cosa vi devo dire? Ancora riesco a colpirlo con la mia super 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 eh Allora qui devo dire che non è molto fastidioso come scontro in volo per il momento quindi... Per il momento però ragazzi eh Ah ok, lui si sposta diciamo... Si sposta sempre, va bene Va bene anche qui, magari riusciamo a colpirlo in questo modo Ecco Odino che comunque non è semplice da abbattere ragazzi eh, non è semplice da abbattere no Purtroppo non è semplice da abbattere Odino però Ecco qua, sono riuscito a colpirlo finalmente, dico finalmente perché... Uh la la, però due barre l'ho tolte quindi... Però ma voglio dire... È una battaglia che si può fare, si si può fare però lei non... Comunque non mi aiuta lei quindi... Comunque non ho aiuto dalla mia consorte lì, va bene Aiuto Mi aiuti, non mi aiuti eh beh Ognuno deve cavarsela per sé qui La nuova regola è questa ragazzi eh È la nuova regola, sì Fantastico così Bradone, fantastico Andiamo... Andiamo un po' se riusciamo a fare il culo qui a Odino perché... Io sinceramente sono un po' spaventato da questo... Scontro che... Prende sempre una forma più... Però... Tutto sommato non è neanche complicato più del previsto insomma quindi... Ah qui sono io che do energia a tutti questa volta, è certo e ci mancherebbe... Ecco qui Odino ragazzi, ecco qui Odino... Vediamo un po', vediamo un po' qui... È andato ragazzi, non ci credo, ho vinto Ho vinto ragazzi, non ci credo Non ci credo, ma ho vinto E voglio anche un trofeo qui, voglio anche un trofeo Eh sì, eh sì Voglio anche un trofeo ragazzi, ma non me lo darà mai Ci sentiremo tra poco, tranquilli E non ci credo, ma non ci credo So, ma non ci credo, ma non ci credo E non ci credo, ma non ci credo Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!